buongiorno buongiorno un cazzo ma perché ma come perché buongiorno alle 11 mi dici buongiorno e quando gloria di scusa e io qua a mazzo la mattina presto buona domenica ah beh tanto tanto è un po meglio che dichiarazione c'hai stamattina niente cosa fa che dichiarazione c'hai non dichiarare niente che sei pronto per venire con me il cento la domenica ragazzi è una giornata speciale vero ebbè noi andiamo al cimitero facciamo tutti i giretti nostri vero ebbè è certo sì o no sì sì vi ricordo ultime ore disponibili per partecipare al contest alle ore 19 io e questo signore faremo la diretta dove premieremo un vincitore che gli consegnerò il merchandising a mano vero quindi fate swipe di fate swipe fate swipe fate swipe fate swipe per l'ultime ore per l'ultime ore decisive dai per le ultime ore decisive ecco qua swipe up perché sta pieno perché siamo uno stronzo come come com'è uno stronzo nucleare nucleare swipe up la e fare una bella merendina oh non fa le scalette testa di cazzo ma pia con quell'altra mano nessuno ma perché ma come perché ma come perché ma l'ho fatto ecco fatto ma mi pare un solco col lavoro alla terra ma è buono perché è buono ma come tagli alla spagnola allora non hai capito che sta tagliato alla spagnola la cuoca è tutto pronto per la domenica stellare io prevedo tagliatelle polpette tutto queste roba coniglio arrosto agnello arrosto cioè io veramente guardatela è maria dona numero 10 della cucina è vero è bello cucinare è bello stare insieme la domenica è brutto che il papa si li mette va via 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 ma perché no che lui è bravo è mai utile è salita una scrofa no ma dopo non ci sale più nessuno con me ecco dritto dritto ecco la pennello com'è oh ecco chi l'ha disegnata che sta stronza da macchina ma perché eh perché come mai ma te che e la c'è la cinta prova mai lo metto e sta fai e dove l'amina per pialla te da sbirà te da sbirà per pialla te da scocciatutto e quindi dissing contro la con l'altra che c'eva prima era bella arca maia da ma perché ma che è con ci si sente la radio e come non la senti e allora tutti la gente chi c'è zi già a te è bella guarda come ride eh quanto comandi eh sai quanto comanda da lassù no eh come fa gli occhiolini da lassù bella la zi già abbiamo fatto un bel giro al cimitero vero no è importante andare a trovare i cari vero e beh dillo anche a chi ci guarda è uno è molto molto importante quindi ragazzi mi raccomando se avete tempo andate io non dico tanto ma una volta alla settimana eh quando avete tempo ragazzi andate perché un po' a me mi danno energia un po' non lo so da te che ti da da me niente mi da che mi pare che mi manca qualcosa se non venga il cimitero è verde testa di cazzo un camminino aspettiamo aspettiamo aspetta che fa rosso eh le è partite tutte ma si è armato solo e aspettiamo perché ma che aspetta che fa rosso aspetta un pochino e c'ha colpa al suo fermo che voglio scendere no no aspetta aspetta che fa rosso dai no che voglio scendere aspetta mi strapperei a tutti i capelli per salire con te ma perché non ci vuoi salire e invece ci sali sempre eh 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 tanto mori diventa verde tranquillo il so guarda le polpette raga guardatela ma quanto so buone buona che bel tu canello guarda sta nevicando incredibile sembrava che non la facesse invece si riaprono tutti gli impianti marone campiglio cortina ortisei canazzei selva corvara incredibile ancora lui guardate come nevica è contro ogni dpcm sta sciando guarda che lavoro guarda sta sciando attenzione ha nevicato incredibile guardate come ha nevicato guardate che lavoro ragazzi col sugo di cervo ma guardate la fattura delle tagliatelle guardate raga guardate che lavoro fatte a mano incredibile guardate che lavoro l'ingegnere la tagliatella nonna maria arzuche o no o no arzuche o no o no o no nonno ma che cazzo arzuche o no non ha cucinato nonna maria coniglio supplì agnello polpette anche in salame c'è guarda che lavoro guarda guarda che salame c'è anche in salame guarda e senza salame appena postato pausa pranzo con carletto su youtube sul mio canale fate swipe up ok potete vedere tutti i video e tutte le storie passate ecco qua guardate in più alle 18 ci sarà un video speciale ma veramente fa morire le risate su hai riconta che è perso è perso 22 è perso amico mio è perso è perso è perso è perso 73 me ne vo no 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 via tutto meno che via perché da ste carte però muovete madonna la bella ragazzi eh piace all'ultimo fa sta presa eh dispiace è vinta anche questa toh 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 è vinto è vinto ma non è quanto a cucina mi fa cazzà vabbè ma nel centrale giocavo la giocavo le lancio tutte eccole eccole ma per me ne puoi anche buttare via giocavo dai dai non me ne vado dai non gioco più davvero mi è stata stupida questa una prima ti incazzavi la vita non gioco più guarda a rire guarda come rire no 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 Ma perché ne hai fatto cazzare? Ma io Sto scrivendo tutti i numeri degli ordini Che state Che avete fatto Eccoli qua E Alle 19 Pescherò Un fortunato Quindi Ancora avete tempo Swipe Ma che si fa? Eh? Oh Ti stai ascoltando? Mamma mia Oh no Ma un cazzo di Poraccio Ti stai ascoltando o no? Oh no Pronto alla Carletto Arena Eccoci qua È tutto pronto O no Chi gioca? Lukaku Lukaku De Puligno De Puligno De Puligno De Puligno Ma vaffanculo Eccoci siamo pronti Partita Eh? Eh E ora vediamo come è Eh? Se ne incominciano Come fai a sapere come è Dimmi la formazione dell'Inter Sì Ne so un bel po' Lukaku l'hai messo di qui? Sì Al top Di coglioni Di coglioni Ne vedi Porta fortuna Fammi toccare le palline Fermate Dio Ah Eh 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 Me ne vuoi? Il padrone di casa no Dai un bacio a Lukaku Vai Dai un bacino Uno Vattane Dio Buono Dai un bacino Da Lukaku Dai Dai che No No Ha scorciato Lukaku Come è meglio Che gli hai fatto da Lukaku? Beh ma porta l'altra Ma guarda che gli hai fatto Dai un bacettino Guardate che gli ha fatto Ma lui non molla E segnerà anche oggi Questo Eccolo Chi è? Chi è? Lukaku De Puligno De due? Vabbè speriamo bene Dai Io ci provo oggi Cazzo me frega Dormimo? Ma che cazzo 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 Eh che ciuffo che hai fatto Ti addormenti Ma cammina va Ma dove hai cucito Sei cucin bensile Ma che cazzo Mi hai messo Hai visto però che banana Magari la vecchia Goal Goal Lukaku Lukaku De Puligno Goal 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 Chi ha segnato? Lukaku Chi ha segnato? Lukaku De Puligno Chi ha segnato? Vabbè Lutaro 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 Vabbè Lutaro Vabbè L'abbiamo fatta anche oggi Carletto Arena Il toro Abbatte il toro Fal 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 è la vacca, ecco il sottopalla del nonno, lo tocchiamo ancora e andiamo avanti grazie ai ragazzi di vino loco, guardate che bottiglia che mi hanno mandato hanno un e-commerce tutto nuovo, per contattarli scriveteli nella loro pagina che ve la taggo oppure una mail ehi ma sta mangiando dell'insalatina? come mai? come mai mangia dell'insalatina? e poi? e poi? e dopo? e dopo? e dopo? e poi? e dopo? e poi? un roccino d'acqua? no! attenzione perché controllano tutto loro eh vedete che lui non fa mai scherzi? sto stronzetto mi ha buttato il tappo della birra dentro il bicchiere no guarda come ride sotto i baffi questa me la pagherai molto cara eh dopo dici che non fai mai dispetti eh eh dici che sei stato tu, ammettilo almeno ammettilo davanti a tutte queste persone no! no ammettilo 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 no tu sei uno stronzo bella sei uno stronzo bella sei che non c'è buono mettila l'uso no! sta buono sta... ma perchè fai così? oh guarda come... ma come calce! ma io non l'ho visto mai tu sei proprio bruslino tu sei bruslino drilli buonanotte a tutti domani lunedì super carichi voglio eh raga belli 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 carichi grazie ancora per tutti i messaggi per tutte le cose belle che mi iscrivete vi ringrazio cerco di ringraziarvi ogni sera perchè è giusto così e anche perchè mi fa un enorme piacere non posso farlo uno ad uno quindi questo è un saluto generale che però è come se fa abbracciarsi uno ad uno ve lo dico col cuore veramente quindi niente domani sveglia presto e si va!